In due giorni 12 nuovi casi di contagio al Covid-19 in Campania, due in Irpinia. Con il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione è stato comunicato che dei 1.492 tamponi processati oggi, due sono risultati positivi al coronavirus. In due giorni dunque in Campania si sono registrati in totale 12 nuovi casi di contagio. Per quanto riguarda l'Irpinia invece, dopo la donna di Moschiano, si va ad aggiungere un altro caso che interessa il comune di Santa Lucia di Serino. A comunicarlo è il sindaco Ottaviano Vistocco. È arrivata una comunicazione dell'Astra di Avellino che conferma la presenza di un caso positivo al Covid-19, si legge, nella nostra piccola comunità. Sono state attuate tutte le misure previste. In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia nella certezza che tutto andrà bene. Questo ricorda che non bisogna mai abbassare la guardia, per cui raccomando a tutti i cittadini, di continuare ad osservare le misure poste in essere, misure necessarie e indispensabili per la prevenzione e il contrasto al Covid-19. Ritornando a Moschiano, positiva al coronavirus, è risultata una donna al nono mese di gravidanza, una 32enne asintomatica che nella notte tra giovedì e venerdì è stata accompagnata in ospedale a Nola per forti dolori all'addome. Come da prassi, la signora è stata sottoposta a controlli, precisamente test e tampone con quest'ultimo che ha dato esito positivo. La donna, dopo alcune ore, ha dato alla luce il suo bambino. Entrambi stanno bene e si trovano ricoverati all'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Il sindaco a Deo ha disposto la quarantena per i familiari della 32enne e per i residenti dell'area condominiale dove la donna vive. In tutto sono disposti circa 40 tamponi, mentre per la stessa donna si attende l'esito del secondo tampone. Ad oggi dunque in Campania il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 4.714, mentre il totale dei tamponi processati è di 290.745. I guariti sono 4.084, i decessi 432.